Cosa fai qua Teo? Cosa fai? Baccia la mamma? Io l'ho già baciata quando non era ancora mamma. Allora ragazzi, pullola di brave belle cantanti delle nostre care amiche, vorrei chiamare qua sul palco la amica Chiara! Allora questa ragazza l'abbiamo conosciuta un po' di tempo fa, l'abbiamo rivista? Dove l'abbiamo vista? Al teatro? Al cantero, la cantante del mio amico Enrico Roseto. Al passivo dell'orchestra? No non c'è, è qui i bambini a casa. Ah che bambini? E tu sei la sua bambina? La sua bimba un po' cresciuta, la sua bimba dell'orchestra. È venuta fuori, allora gli facciamo cantare una bella canzone, voi rimanete qua eh! Fate un bel applauso, d'incoraggiamento, forza! Grazie! Grazie 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 a tutti. 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 Signori, che voce ragazzi! Chiara! Che voce! Mamma mia! Fate sentire l'applauso più forte! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, buona sera! Grazie a tutti. Grazie a tutti.